Signora Serenella Fonsato, un commento a caldo sul primo corso pratico di acquisizione clienti SitoVivo? Sicuramente superiore alle aspettative e di tipo pratico, quello che stavo cercando. Qual è l'argomento che le è piaciuto di più? La strategia applicata, ma anche la chiarezza rispetto alle scelte di business. E del software SitoVivo che cosa ne pensa? Io direi wow perché io non sono un esperto e quindi vederne la semplicità, questo è il prodotto giusto per me.